Andiamo a prendere il Cinnamon, che è una colorazione che mi piace molto, e lo andiamo ad applicare sotto alla parte Earth, esattamente dove avevamo creato prima con il Golden Ski numero 3 il nostro effetto contouring, e quindi appoggiamo un po' di colore a seguire in maniera tale da creare questo effetto proprio star bene, quasi che non sembri un blush. Per le nostre labbra utilizziamo invece la Lip Pencil numero 5 di Vore Makeup. All'interno delle labbra non voglio dare eccessivamente colore a Silvia, quindi utilizzerò il Gloss, Natural Gloss di Vore Makeup, che è completamente trasparente, anche se la colorazione potrebbe ingannare, ma in realtà è un mix di aloe e vitamina E super idratante. Grazie a tutti.